Ciao ragazzi! Bentornati in un nuovo video! In questo video voglio parlarvi di Manzara Un sito online di abbigliamento che in realtà non conoscevo Quindi ho guardato il sito ben bene E devo dire che ci sono tantissime cose molto carine Soprattutto i parca Ed è proprio di un parca che oggi voglio parlarvi Mi hanno mandato questo parca qui Che praticamente è un verdino Con il pellicciotto bianco Però in realtà c'era anche con il pellicciotto grigio E con il pellicciotto rosa Che era molto bello Però io vado sempre sul classico È un parca molto bello All'interno abbiamo tutto questo pellicciotto Che è morbidosissimo Ha questo mega cappuccio Sempre con tutto questo pellicciotto Però volendo si può anche staccare E diventa un cappuccio normalissimo Anche se io credo che la particolarità sia proprio questo pellicciotto In vita troviamo questo laccetto Che funge da cinturino Quindi possiamo stringerlo Due tasche laterali Bottoncini E la cerniera Ma passiamo alla taglia Allora io ho preso una XS Considerate che questi parca vestono molto larghi Quindi io vi consiglio di prendere una taglia in meno Rispetto a quella che prendete normalmente A me piace molto Mi piacciono tutte le rifiniture Ci sono anche questi bottoncini qui Che volendo si possono stringere Quindi la manica rimarrebbe un po' più chiusa Poi come vi ho detto questo cappuccio è fantastico Forse l'unico difetto è che qui fa ancora troppo caldo per indossarlo Però prossimamente sarà molto utile Oppure anche in viaggio Per quanto riguarda la spedizione è molto celere Al massimo 4 giorni lavorativi E riceverete il vostro pacco E se non sbaglio superando le 50 euro La spedizione è gratuita Ovviamente io vi lascerò tutti i link Tutti i riferimenti giù nell'info box Ho voluto fare adesso questo video Perché comunque siamo nel periodo natalizio Quindi un'ottima idea regalo Ma anche un ottimo auto regalo volendo Date un'occhiata al sito Perché a parte i parca ci sono tantissime altre cose Quindi se non lo conoscete andate a sbirciare un po' Fatemi sapere se questi video così brevi vi possono piacere O se preferite i soliti video un po' più lunghi Vi mando un bacio E vi aspetto al prossimo video Ciao